proseguiamo i nostri incontri dedicati a leonardo sciascia e l'incontro di oggi lo dedichiamo al romanzo del 1966 a ciascuno il suo un romanzo che esce in quell'occasione per le edizioni e in Audi e come vi dicevo poi le opere di sciascia saranno raccolte in tre volumi dall'editore Bonpiani mentre negli ultimi anni sciascia viene ristampato dall'editore Adelphi anche a ciascuno il suo riprende ma come vedremo in modo un po' parodistico la struttura del giallo che abbiamo incontrato soprattutto nel giorno della civetta che era stato pubblicato cinque anni prima nel 61 e quindi un romanzo poliziesco che prende spunto da un omicidio in realtà da due omicidi e anche in questo caso però diciamo c'è un riferimento legato ad un evento reale come era accaduto già per il giorno della civetta in questo caso sciascia si ispira all'assassinio di un commissario di pubblica sicurezza di agrigento il commissario si chiamava Cataldo Tandoi ed era avvenuto nel 1960 questo omicidio il titolo è già significativo tra l'altro fornirà indizi poi per la ricerca dei responsabili a ciascuno il suo viene dal latino uniquicque sum e la frase è stampata sul retro della lettera minatoria che dà avvio alla successione degli eventi e questa frase compare sulla testata dell'osservatore romano il quotidiano diciamo del vaticano in realtà la frase completa come compare sulla testata dell'osservatore romano è uniquicque sum non prevalebunt e in mezzo alla frase ci sono i simboli pontificali lo scettro e le chiavi la prima parte quel sum quicque tribuere vuol dire dare a ciascuno il suo ed è uno dei precetti fondamentali del diritto romano e tra l'altro questa locuzione in tedesco jedem das saine era all'ingresso del campo di concentramento di sterminio di buchenwald in germania mentre l'altra parte della frase questo non prevalebunt rimanda un passo del vangelo di matteo quando gesù dice a pietro tu sei pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa questo non prevarranno che è appunto il non prevalebunt della seconda parte della formula dopo a ciascuno il suo la storia è abbastanza diciamo complessa e contorta siamo in una calda estate del 1624 in realtà sciascia ci fornisce anche la data precisa ed è il 23 agosto del 1964 tra l'altro è proprio la data successiva alla conclusione di quell'opera teatrale l'onorevole di cui vi ho parlato se ben ricordo nell'ultima occasione un'opera in cui appunto era affrontato il legame tra il mondo politico siciliano e la mafia siamo in un piccolo borgo dell'entroterra della sicilia e come dire il punto da cui si avvia la storia è una lettera anonima quella lettera che ha appunto in filigrana il il la scritta uniquico e sum la lettera anonima viene inviata al farmacista del paese che si chiama manno e la lettera praticamente contiene una minaccia di morte è una lettera enigmatica che gli amici del farmacista cercano un po di interpretare anche perché questo farmacista è una persona molto apprezzata dai suoi compaesani non è un uomo che si occupi di politica ha un'unica passione che è quella della caccia gli amici sostanzialmente pensano un po tutti che la lettera sia semplicemente uno scherzo una burla certo un po feroce ma nulla di più e quindi manno il farmacista non dà peso anche se un po di timore rimane a questa lettera ma pochi giorni dopo viene trovato ucciso ed è stato ucciso durante una battuta di caccia insieme ad un amico questo amico è il dottor roscio ora gli inquirenti che avviano le immagini come dire prendono spunto dalla lettera anonima e come dire sospettano ovviamente che il bersaglio dell'omicidio sia stato il farmacista manno che ha ricevuto la lettera e che solo casualmente trovandosi lì con il farmacista mentre era a caccia sia stato ucciso anche l'altro il dottor roscio l'idea degli inquirenti che viene diffusa dalla voce pubblica è che come sempre e del resto questo era accaduto anche nel caso dell'omicidio del commissario di pubblica sicurezza tantoi nel 60 è come sempre che diciamo così il movente dell'omicidio vada cercato in una relazione amorosa clandestina si sospetta che manno abbia avuto una storia con una giovane frequentatrice della sua farmacia in realtà è chiaramente una pista falsa diffusa ad arte per tenere nascosti i veri responsabili ora questo duplice omicidio incuriosisce il professor laurana che il protagonista vero del romanzo laurana è uno scapolo mite ormai giunto alla mezza età vive con l'anziana madre e laurana come dire comincia a seguire un'indagine che prende spunto proprio da quella parola uniquique che si trovava sul retro del foglio della lettera anonima scopre appunto che quella parola è stata composta attraverso le lettere di una copia dell'osservatore romano e allora comincia cerca di scoprire chi in paese riceva in abbonamento il quotidiano del vaticano e sono solo due il parroco il parroco della chiesa di sant'anna e poi l'arciprete l'arciprete tra l'altro è lo zio della moglie di roscio cioè l'altro che è stato ucciso ed è un po' l'eminenza grigia del clan come poi si capirà politico mafioso che gestisce gli affari nel in quella località e nelle zone dimitrofe e laurana comincia la sua indagine e si reca a parlare dal parroco si reca poi dall'arciprete e ben presto capisce che il bersaglio dell'omicidio il vero bersaglio non era il farmacista manno ma appunto chi lo accompagna cioè il dottor roscio la lettera anonima era stata soltanto diciamo un elemento per depistare le indagini e quindi laurana va poi a proseguire la sua indagine prima dalla moglie di roscio poi dal padre di quest'ultimo alla fine comprende qual è diciamo riesce a sciogliere il nodo e comprende la soluzione del delitto e il delitto è legato al fatto che il dottor roscio ha scoperto che sua moglie luisa aveva una relazione con il cugino l'avvocato roselli una relazione che proseguiva da anni ma come dire il vero motivo non era tanto passionale la questione era legata al fatto che come dire questi due personaggi dottor roscio che è stato ucciso sposato con questa signora luisa e l'avvocato roselli incarnano in un certo senso due forme diverse della mafia locale il dottor roscio rappresenta la mafia del passato potremmo dire è un è stato un politico democristiano intrallazzato con la mafia l'altro invece rosello quello che ha la relazione con la moglie di roscio rappresenta in qualche modo la mafia di nuovo di nuovo stampo ed è quella mafia che si è aperta siamo all'inizio degli anni sessanta si è aperta e si è resa disponibile attraverso la democrazia cristiana a relazionarsi col partito socialista promuovendo il centro sinistra al governo d'italia e quindi rosello spaventato dall'idea che roscio potesse denunciare non tanto la sua relazione con la moglie di roscio quanto gli intrallazzi e gli affari che si stavano muovendo organizzati tra l'altro dall'arciprete rosello decide di fare uccidere da un sicario appunto roscio e il farmacista manno rimane implicato senza avere nessuna colpa quindi l'omicidio legato al fatto che rosello vuole impedire che scoppi uno scandalo perché roscio è in possesso di documenti compromettenti che coinvolgono un po tutto il nuovo staff politico politico mafioso democristiano ora laurana scopre tutto questo il nostro professor laurana ma non denuncia le sue scoperte alla polizia prosegue invece per una sua strada diciamo così privata crede che luisa la vedova del dottor roscio e amante di rosello crede che luisa sia un po vittima di questa situazione in realtà luisa una sorta di femme fatale in accordo con suo cugino l'amante avvocato rosello riesce a dirretire a sedurre il povero laurana perché hanno capito che laurana ha compreso la verità della situazione e quindi luisa come dire fa in modo che laurana si rechi ad un appuntamento con lei laurana non sospetta che in quell'appuntamento invece il solito sicario lo ucciderà e mentre il cadavere del professor laurana giaci in una zolfara la vedova luisa la vedova di roscio si sposa con rosello l'avvocato che era stato suo amante e qualche modo questo matrimonio rende evidente a tutti che lo scopo dell'omicidio era stato quello di liberarsi del dottor roscio di poter vivere felicemente tra loro ma liberarsi anche di un pericoloso testimone dei loschi affari politico mafiosi e alla fine quasi a commento di questa soluzione il libro riporta questa frase lapidaria che viene espressa da uno degli uomini del paese ma è un po la convinzione comune di tutti i suoi concittadini e la frase con cui povero laurana scomparso di cui non si sa più nulla nascosto cadavere finito in una zolfara di laurana si dice era un cretino semplicemente il romanzo a ciascuno il suo già l'anno dopo ebbe una versione cinematografica per la regia di elio petri il protagonista era già maria volontè mentre luisa il ruolo di luisa era affidato a irene papas dicevamo un romanzo giallo ma come sempre in sciascia come dire con una ricchezza e una profondità di livelli che non si riducono semplicemente alla soluzione di un enigma già abbiamo visto che lo spunto è preso da un evento reale c'è il tema tradizionale del tentato depistaggio delle indagini indicando una pista passionale ma sciascia dirà poi in una intervista che si era proposto di scrivere il resoconto di un fallimento storico il fallimento del centro sinistra e in effetti a una prima lettura un po distratta questo aspetto si coglie poco se noi prestiamo attenzione solo al tema dell'omicidio e dell'indagine svolta da laurana non lo comprendiamo in realtà è questa la questione che interessa sciascia cioè le grandi speranze con cui all'inizio degli anni sessanta erano era sorto l'esperimento del centro sinistra cioè l'alleanza col partito di maggioranza la democrazia cristiana che si era aperto verso il partito socialista queste grandi speranze si sono ben presto vanificate e come dice dice sciascia a causa dell'eterna immutabilità dell'eterno fascismo italiano e in effetti come dicevamo mentre roscio che è stato ucciso rappresentava la dimensione politica un po tradizionale moderata anche del cattolicesimo invece l'avvocato rosello che rappresenta l'anima nuova della democrazia cristiana disposta ad aprirsi ai socialisti rappresenta però anche la mafia diciamo più imprenditoriale la mafia degli affari è vero che la struttura è quella di un giallo abbiamo un protagonista laurana il professore che è una sorta di investigatore dilettante che utilizza tecniche sia alla Sherlock Holmes cioè cercando di trarre dagli indizi più che dedurre come ci ha spiegato Umberto Eco in uno scritto dedicato appunto alle procedure di Sherlock Holmes il segno dei tre non è una vera deduzione è una abduzione cioè un passaggio da un caso singolo ad un altro caso singolo da un indizio ad un altro ma il nostro laurana segue anche l'altra strada tipica diciamo della tradizione del giallo cioè quella della immedesimazione con il colpevole che è tipica di maigret dialogando si cerca appunto di far emergere la psicologia del personaggio ma ciò che conduce laurana alla morte come abbiamo detto in questa trappola organizzata dalla vedova di roscio e dall'avvocato rosello ciò che conduce dicevo laurana alla morte è anche la sua assenza di una coscienza civica in realtà laurana non vuole denunciare rosello anche se ha capito che è il responsabile dei delitti alla polizia in fondo anche laurana obbedisce alla legge non scritta dell'omerta e non a caso shasha insiste sul fatto che questo personaggio è estraneo al mondo locale ignora i giochi di potere ed interesse è un ingenuo il nostro laurana è un professore che insegna in un'altra città e quindi è spesso lontano vive con la madre passa il suo tempo a casa a studiare e scrivere è una figura quasi infantile come testimonia anche il cedimento questa sua questo innamoramento adolescenziale nei confronti della signora laura che tesse la tela della trappola e come dice shasha laurana è un uomo onesto meticoloso triste non molto intelligente anzi con momenti di positiva ottusità ed è mosso il nostro laurana all'investigazione non tanto da una sete di giustizia ma da una specie di capriccio intellettuale è come se il delitto fosse un gioco con cui vincere la noia inseguendo appunto la catena degli indizi in fondo anche in laurana permangono alcune tracce di quel sentire mafioso che abbiamo già indagato in passato a un forte amor proprio a una diffidenza nei confronti della legge non pensa certo di giungere ad arrestare i colpevoli e scrive shasha giocavano in questo suo oscuro amor proprio i secoli di infamia che un popolo oppresso un popolo sempre vinto aveva fatto pesare sulla legge e su coloro che ne erano strumenti l'affermazione non ancora spenta che il miglior diritto e la più giusta giustizia se proprio uno ci tiene se non è disposto a confidarne l'esecuzione al destino a dio soltanto possono uscire dalle canne di una scopetta e quindi ripeto anche laurana è vittima di questa tradizione siciliana di questa diffidenza nei confronti della legge di questa pratica della vendetta nel caso appunto di un omicidio e laurana è un professore dicevamo studioso di letteratura e lettore comunista ma molto a disagio è un esperto d'arte a una come dire la presunzione anche un po la vanità di sentirsi un po superiore rispetto all'ambiente incolto del paese in cui vive ma di sentirsi superiore un po anche ai colleghi di scuola che non hanno la sua stessa formazione e poi laurana per chiudere un po questo quadro della sua ingenuità è anche vittima di questo affetto esclusivo della madre che lo ha reso un po timido e represso è un quarantenne che si immagina storie d'amore con le colleghe e anche con la vedova roscio che sogna oscenamente splendente in fondo anche laurana è una figura brancatiana appartiene a quella sequela di maschi come il don giovanni sicilia di brancati che poi rientrano nel matriarcato siciliano questa soggezione alla figura femminile che finisce per scatenare una ossessione erotica e nel finale del romanzo il povero laurana come dice sciascia finito sotto grave mora di rosticci in una zolfara abbandonata il povero laurana appunto è considerato un cretino dagli altri perché gli altri per molti versi avevano già colto quale fosse la vera questione in gioco le voci e i pettegolezzi che giravano nel paese avevano già indirizzato un po l'indagine dicevamo che è un romanzo poliziesco ma è anche una parodia del romanzo è un giallo che non è giallo e del resto l'epigrafe che sciascia pone all'inizio del romanzo è tratta da edgar alain po come dire quello che ha introdotto la figura del detective con dupin e l'epigrafe dice ma non crediate che io stia per svelare un mistero o per scrivere un romanzo e in molte occasioni questa dimensione parodica ritorna come quando sciascia sottolinea che un delitto si offra agli inquirenti come un quadro i cui elementi materiali e per così dire stilistici consentano se sottilmente reperiti e analizzati una sicura attribuzione è corollario di tutti quei romanzi polizieschi cui buona parte dell'umanità si abbeve nella realtà le cose stanno però diversamente come sciascia aveva già sottolineato il romanzo poliziesco ha una dimensione consolatoria crede che attraverso gli indizi si possa giungere a risolvere un delitto in realtà questo nella realtà non accade mai e anche qui in effetti la urana si avvia sulla giusta strada attraverso il caso o gli inquirenti spesso lo fanno sulla base di delazioni anonime ad esempio casualmente la urana incontra un suo amico deputato che sta a roma ma che ha visto la presenza dell'avvocato rosello lo ha visto in compagnia di un famoso delinquente e lo stesso la urana a modo sulle scale del palazzo di giustizia di scoprire chi è il sicario e colui che ha ucciso manno e roscio e di scoprire come poi vedremo da una lettura e di scoprire il legame tra questo famoso delinquente e l'avvocato rosello e l'ambiente politico mafioso anche in questo caso come era già in nel giorno della civetta il colpevole non viene punito il lettore sa come la urana qual è la soluzione del delitto però in fondo qui è il dilettantismo del professore che in un certo senso non ha consentito di arrestare i colpevoli professore è nella condizione pirandelliana pirandelliana dell'uomo solo non è certo un detective tradizionale non possiede quella che chiamava la grazia illuminante che gli fa gettare luce sull'enigma questo professore è un candido e usiamo questo termine come dire in senso forte ricordando che più avanti sciascia comporrà un romanzo candido che si richiama al candido di volter dire che è un candido vuol dire soprattutto che in quella sicilia in cui la abilità dei politici è dissimulare far credere giocare sulle apparenze e invece la urana è uno che non sa dissimulare che non sa nascondere e in fondo è per questo che alla fine lo giudicano un cretino tutto il suo mondo di la urana è filtrato attraverso la letteratura una serata al circolo dice sciascia per lui per la urana era come leggere un libro di pirandello di brancati secondo i temi e gli umori della conversazione e quando il preside della scuola di la urana interrogato sull'ultimo dialogo che ha avuto con la urana spesso risponde che stavano parlando di borgese ora borgese oltre ad essere l'autore di rubè composto nel 1921 che è forse il romanzo che ci offre il quadro la fotografia più lucida della società italiana che sta avviandosi al fascismo borgese dicevo aveva scritto nel 38 un saggio golia marcia del fascismo da cui sciascia ha sicuramente tratto spunto per quella sua lettura del fascismo in chiave non tanto politica ma etico civile è quella lettura che noi ritroveremo fra poco nella lettura nell'interpretazione che ci offrirà poggione di un passo quando a parlare sarà questo don benito e la urana è comunque anche una vittima senza redenzione è un capro espiatorio prescelto in un certo senso dalla comunità stessa tra l'altro questo è un romanzo da un lato fortemente anticlericale la figura del parroco di sant'anna ad esempio è la figura di un lettore studioso di manzoni ma che dice di prediligere invece iscritti di casanova poi c'è l'altra figura dell'arciprete che come vi dicevo è un po l'eminenza che gestisce gli affari politico mafiosi però dirà sascia questo è anche un romanzo in cui si esprime il suo momento più cristiano il parroco che è una figura cinica ambigua nemica dell'arciprete svela la urana i giochi sporchi di rosello il politico che sta conducendo la dc verso il centro sinistra e dice a la urana il fatto che noi ad occhio nudo non vediamo le zampe dei vermi del formaggio non è ragione per credere che i vermi non le vedano io sono un verme dello stesso formaggio e vedo le zampe degli altri vermi il parroco che è interno a questo mondo di intrallazzi e di clientele come dire riconosce di essere anche lui un verme all'interno di questo formaggio ma questa dimensione religiosa emerge in particolare nel dialogo che la urana a con il padre della vittima questo roscio un oculista novantenne diventato cieco quando si reca a casa sua il padre di roscio sta ascoltando il disco del trentesimo canto dell'inferno quelle in cui si parla dei falsatori di persona di moneta e di parola dove compare gianni schicchi dove compare l'incestuosa mirra del mito greco che si era trasformata e mascherata per giacere con il padre e da quella l'incesto era nato a dove il vecchio il padre di roscio da voce in qualche modo al crollo delle speranze progressiste osserva come sentirete fra poco da cristian che i comunisti in fondo sono già al potere e sviluppa tutta una serie di riflessioni enigmatiche teologiche che ruotano attorno anche al fatto che suo figlio roscio ha sposato una donna che apparteneva a una famiglia cattolica e dice di questo mondo cattolico che è gente sempre pronta a mettere mano nella tasca degli altri e anche a sparare contro qualcuno e poi questo novantenne parla della nuora una donna da letto come si direbbe appunto in sicilia e riflette su questo mistero dell'alcova dell'esposizione del corpo del corpo femminile che viene ritenuto un segno di libertà ma è l'esposizione come usando lo stesso termine che un tempo veniva utilizzato per gli impiccati e da questa conversazione laurana capisce anche se in modo enigmatico che la morte del figlio di roscio ha come responsabile coloro che erano più vicini e quindi appunto l'ambiente familiare anche se poi il vecchio roscio rimanda anche come dire alle colpe dei padri e la conclusione di questo dialogo che adesso sentiremo quando saluta laurana il vecchio roscio dice un problema ma non si capisce se questo problema rimandi al delitto forse rimanda più genericamente al mistero della vita e della società iniqua in cui suo figlio ha trovato la morte prego il vecchio professor roscio la cui fama di oculista ancora durava nella sicilia occidentale e anzi già volgeva nel mito da circa vent'anni aveva lasciato la cattedra e la professione più che novantenne per ironia della sorte o perché meglio si inverasse nel mito di un uomo che aveva sfidato la natura ridando ai ciechi la vista e dalla natura nella vista era stato colpito era afflitto da una quasi totale cecità e stava a palermo in casa di un figlio che come oculista probabilmente era altrettanto valente ma viveva sulla rendita del nome paterno nel pregiudizio dei più laurana annunciò per telefono la sua visita per il giorno e l'ora che più facesse comodo al professore il professore cui la cameriera era andata a riferire venne al telefono rispose che venisse subito non che dai contrassegni che gli diede laurana fosse riuscito a ricordarsi di quel vecchio compagno del figlio ma era avidissimo di compagnia nella oscura solitudine in cui ormai viveva erano le cinque del pomeriggio il professore stava in terrazza seduto in poltrona un giradischi alato da cui veniva ora stentorea ora tremula e sospirata la voce di un attore famoso che declamava il trentesimo dell'inferno vede come sono ridotto disse il professore porgendogli la mano a sentire da costui la divina commedia quasi che l'attore fosse presente e che il professore avesse altre e più personali ragioni di disprezzarlo preferirei me la leggesse mio nipote chi ha dodici anni o la partiera o il portiere ma hanno altro da fare oltre il parapetto della terrazza sotto i veli di scirocco palermo splendeva bella vista disse il professore e con sicurezza indicò san giovanni degli eremiti palazzo d'orleans palazzo reale sorrise quando siamo venuti ad abitare in questa casa dieci anni fa vedevo un po di più ora vedo soltanto la luce ma come una lontana fiamma bianca per fortuna a palermo ce n'è tanta di luce ma lasciamo stare le nostre personali sventure lei dunque è stato compagno del povero figlio mio al ginnasio al liceo poi lui è entrato in medicina e io in lettere in lettere e fa il professore no sì di italiano e di storia ma sa che io rimpiango di non aver fatto il professore di lettere a quest'ora almeno saprei a memoria la divina commedia è una fissazione pensò la urana ma lei nella vita ha fatto ben altro che leggere spiegare la divina commedia disse crede che quello che ho fatto io abbia più senso di quello che fa lei no voglio dire che quello che faccio io possono farlo migliaia di altre persone mentre quello che ha fatto lei possono farle pochissime dieci o venti persone nel mondo storie disse il vecchio e sembrò assopirsi poi improvvisamente domandò e mio figlio in questi ultimi tempi com'era com'era dico mostrava preoccupazione inquietudine nervosismo non mi pareva ma ieri parlando con una persona che l'aveva incontrato a roma mi sono ricordato che in questi ultimi tempi veramente era un po diverso almeno in certe cose ma come mai lei mi fa questa domanda perché pareva un po diverso anche a me ma ha detto che una persona l'aveva incontrato a roma sì a roma 15 o 20 giorni prima che accadesse la disgrazia strano ma per caso non si sbaglia questa persona non si sbaglia è un amico un compagno di scuola è deputato comunista suo figlio è andato a roma proprio per incontrarlo per incontrarlo strano davvero strano non credo avesse da chiedergli un favore benché i comunisti siano anch'essi in un certo modo al potere è sempre più facile ottenere favore da questi altri e punto alla mano verso palazzo d'orlean sede del governo regionale e questi altri mio figlio gli aveva persino in casa e piuttosto potenti a quanto mi dicono non era precisamente un favore che aveva da chiedergli voleva che il nostro amico alla camera denunciasse gli abusi e i furti di un notabile mio figlio si stupì il vecchio sì ne sono meravigliato anch'io certo che è cambiare che certo è che era cambiato considerò il vecchio come tra sé era cambiato e non so precisamente da quando non riesco a ricordare quando è che per la prima volta avvertito in lui una certa stanchezza un certo disamore ed anche una durezza di giudizio che mi ha fatto pensare a sua madre mia moglie veniva da una famiglia di gabellotti gente che tra il 26 e il 30 ebbe il suo da fare ad istricarsi dalla rete che mori le aveva gettato sopra e no non amava il prossimo suo mia moglie ma forse è più giusto dire che non capiva e nessuno l'aveva mai portata al grado di capire e io meno di ogni altro ma di che stavamo parlando di suo figlio sì di mio figlio era intelligente ma di una intelligenza quieta lenta ed era molto onesto forse dalla parte di mia moglie aveva preso un grande attaccamento alla terra alla campagna soltanto questo che è suo nonno il padre di mia moglie in campagna ci stava come un selvaggio e anche mia moglie e mio figlio invece con molta letteratura credo era un ragazzo un uomo di quelli che si dicono semplici invece sono maledettamente complicati perciò non mi è piaciuto che fosse andato a infilarsi in una famiglia di cattolici col suo matrimonio dico cattolici per modo di dire mai conosciuto in vita mia qui un cattolico vero e sto per compiere 92 anni c'è gente che in vita sua ha mangiato magari una mezza salma di grano maiorchino fatto ad ostie ed è sempre pronta a mettere la mano nella tasca degli altri a tirare un calcio alla faccia di un moribondo e un colpo a lupara alle reni di uno in buona salute lei conosce mia nuora i suoi parenti non intimamente io per niente ho incontrato mia nuora poche volte e una sola volta quel suo zio canonico arciprete o che diavolo è arciprete un uomo dolcissimo voleva convertirmi per fortuna era di passaggio se no sarebbe finita che mi avrebbe portato di sorpresa il santissimo non ha capito per niente che io sono un uomo religioso ma mia nuora è molto bella no molto bella o forse molto donna di quelle che quando io ero giovane si dicevano da letto con distacco da intenditore quasi non parlasse della moglie di suo figlio ora morto e muovendo le mani a disegnarne il corpo disteso credo che questa espressione ora non si usi più la donna è caduta dal mistero dell'alcova e da quello dell'anima e sa che ne penso che la chiesa cattolica stia registrando oggi il suo più grande trionfo l'uomo odia finalmente la donna non c'era riuscita nemmeno nei secoli più grevi più oscuri c'è riuscita oggi e forse un teologo direbbe che è stata un'astuzia della provvidenza l'uomo credeva anche in fatto di erotismo di correre sulla via maestra della libertà e invece è finito in fondo all'antico sacco sì forse benché mi pare che mai come oggi nel mondo diciamo cristiano il corpo della donna sia stato così esaltato così esposto e la stessa funzione di richiamo di fascino che la pubblicità commerciale assegna alla donna lei ha detto una parola che contiene indefinite a iva l'essenza della questione esposto il corpo della donna è esposto esposto come un tempo restavano esposti gli impiccati giustizia è stata fatta insomma ma sto parlando troppo è meglio che mi riposi un poco la urana l'intese come un congedo e si alzò di scatto non si muova disse il vecchio allarmato che gli fuggisse via così presto la rara occasione di conversare di nuovo sembrò assopirsi scivolare nel sonno col suo bel profilo di medaglia così come generazioni di studenti l'avrebbero poi visto in un basso rilievo di bronzo nell'atrio dell'università e sotto il basso rilievo una di quelle iscrizioni di cui se mai vi fanno attenzione ridono scivolerà così nella morte pensò la urana e stesse a fissarlo con una certa ansietà finché il vecchio sempre immobile come continuando a svolgere il pensiero in cui si era chiuso disse certe cose certi fatti è meglio lasciarli nell'oscurità in cui stanno proverbio regola il morto è morto diamo aiuto al vivo se lei dice questo proverbio a uno del nord gli fa immaginare la scena di un incidente in cui c'è un morto e c'è un ferito ed è ragionevole lasciare lì il morto e preoccuparsi di salvare il ferito un siciliano vede invece il morto ammazzato e l'assassino e il vivo da aiutare è appunto l'assassino che cosa è poi un morto per un siciliano forse l'ha capito quel lorenz che ha contribuito a cacciare l'eros nel cul di sacco un morto è una ridicola anima del purgatorio un piccolo verme dai tratti umani che saltella su mattoni roventi ma si capisce che quando il morto è del nostro sangue bisogna far di tutto perché il vivo cioè l'assassino vada presto a raggiungerlo tra le fiamme del purgatorio io non sono siciliano fino a questo punto non ho mai avuto inclinazione ad aiutare i vivi cioè gli assassini e ho sempre pensato che le carceri siano un più concreto purgatorio ma c'è qualcosa nella fine di mio figlio che mi fa pensare ai vivi e che mi dà una certa preoccupazione per i vivi i vivi che sono gli assassini no non a quei vivi che direttamente materialmente l'hanno ucciso ai vivi che l'hanno disamorato che l'hanno portato a vedere certe cose della vita e a farne certe altre ad un'età come la mia uno che all'avventura di arrivarci è disposto a credere che la morte è un atto di volontà un piccolo atto di volontà nel mio caso a un certo punto sarò stupo di sentire la voce di costui e indicò i geradischi il rumore della città la cameriera che da sei mesi canta di una lacrima sul viso mia nuora che da dieci anni ogni mattina si informa della mia salute con la speranza appena velata di apprendere che sono finalmente all'amen e deciderò di morire così come uno chiude il telefono quando dall'altra parte c'è un seccatore o un cretino ma voglio dire questo che ci può essere in un uomo una esperienza una pena un pensiero uno stato d'animo per cui la morte infine è soltanto una formalità e allora se responsabili ci sono bisogna cercarli tra i più vicini e nel caso di mio figlio si potrebbe cominciare da me che è un padre è sempre colpevole sempre gli occhi spenti sembravano perdersi nella lontananza del passato e dei ricordi come vede sono anch'io uno dei vivi che bisogna aiutare la urana sospettò ci fosse nel discorso una specie di doppio fondo soltanto un'oscura dolorosa intuizione domandò lei sta pensando a qualcosa di preciso no niente di preciso penso ai vivi glielo detto e lei non so disse la urana cadde tra loro il silenzio la urana si alzò per congedarsi il vecchio di porse la mano disse è un problema e forse si riferiva al delitto forse alla vita anche attraverso questo dialogo con il padre di roscio il professor la urana possiede una serie di elementi che lo avvicinano sempre più alla verità all'identità del killer e in questo romanzo su di una mafia che ormai come dice sasha non è più quella agricola contro cui aveva dovuto combattere il prefetto mori è una mafia urbana e totalmente politica in questo romanzo in qualche modo il responsabile il vero colpevole potremmo dire è questo clan familiare che ruota attorno alla figura dell'arciprete quasi un boss se volete ma accanto a lui c'è tutta una comunità anche omertosa con voci meschine e malvagie nei confronti di la urana nei confronti di di altri che non comprendono l'intreccio che si sta sviluppando in fondo con questo romanzo sasha ci offre un altro tassello di quella contro storia d'italia in cui a dominare quel l'eterno fascismo che è fondato sulla regione della famiglia e della roba e in fondo è già quella religione su cui verga nei malavoglia e altrove aveva posto l'accento e in qualche modo assaldare questo plan familiare mafioso è il matrimonio finale l'avvocato rosello che ha fatto in modo di eliminare suo cugino roscio e che scusate di eliminare il marito di sua cugina quando la cugina rimane appunto vedova l'avvocato rosello che già ne era stato l'amante la sposa il matrimonio rinsalda proprio questa unione tra la dimensione della famiglia e quella della roba di cui parlava verga ma è un matrimonio che gronda sangue dicevamo prima del ruolo del caso non è per caso che laurana incontra l'avvocato rosello sulle scale del palazzo di giustizia insieme a un deputato siciliano che si chiama abello se ben ricordo e con loro trovedeva anche uno strano personaggio con un'aria un po delinquenziale questo ragana che poi si scopre essere anche per il tipo di sigari che fuma si scopre essere di fatto il sicario a cui è stato commissionato il delitto ma per giungere alla soluzione si richiede diremmo così l'intervento di un'altra figura un altro pazzo tra virgolette ma è quella follia che diventa come dice sciascia un portofranco della verità un altro pazzo che sviluppo un monologo come quello che abbiamo sentito prima dall'ultra novantenne padre di roscio quest'altro pazzo che laurana anche qui incontra per caso si chiama don benito donne come attribuzione diciamo onorifica non in senso religioso don benito che vive in un paese qui viene chiamato montalmo perché in quel paese montalmo laurana ha scoperto che proviene quell'uomo che ha visto con l'onorevole quell'uomo che poi ripeto sarà l'esecutore materiale è stato l'esecutore materiale del delitto e quindi laurana si reca a montalmo perché lì c'è un suo vecchio compagno di scuola in realtà quando giunge a casa del compagno di scuola il compagno non c'è e laurana parla con il fratello maggiore appunto questo don benito del suo compagno di scuola che viene presentato come l'uomo libero in un paese che non lo è e che vive in una sorta di condizione di pazzia ma appunto così come il vecchio precedente l'oculista era diventato cieco e quindi poteva vedere meglio la realtà anche qui la follia di questo don benito è quella che dà gli indizi e che porta laurana a comprendere l'identità del killer la cosa interessante di questo dialogo che fra poco christian ci leggerà e con cui chiudiamo questo incontro è che di nuovo emerge un giudizio durissimo sulle cose italiane sul fascismo che ormai non riguarda più diciamo un passato dell'italia ma è diventato un elemento pervasivo questo eterno fascismo italiano al punto che don benito ricorda la figura di un vecchio amico che negli anni del fascismo era stato mandato al confino e che adesso ha acquisito una sua nicchia di potere ed è diventato come gli altri di nuovo il fascismo che sciascia denuncia non ha una natura politica ha una natura etica è quella diffidenza nei confronti della legge della giustizia è quella ipervalutazione della della famiglia come unico elemento di riferimento e la sicilia in cui è avvenuta l'emigrazione in cui permane un'agricoltura arcaica in cui ancora ci sono le tragedie legate al lavoro in miniera nelle torfare o nelle saline la sicilia appare nella presentazione che ne offre don benito con un'immagine disperata non dice stiamo affondando e questa specie di nave corsara che è stata la sicilia ecco i suoi loici cornuti suoi folli i suoi demoni meridiani e notturni l'arancia e lo zolfo i cadaveri affonda amico mio affonda e qui tra l'altro nel discorso di non benito ci sono una serie di riferimenti il gatto pardo i colori di guttuso gli scrittori impegnati ma la voglia i percola percola vi ricordo era il protagonista del don giovanni in sicilia di brancati e anche qui alla conclusione del dialogo di fronte a queste immagini disperata di una sicilia che è una nave corsara che affonda laurana replica dicendo di non essere d'accordo e questo don benito nella sua follia risponde che non lo è neanche lui come se e shasha volesse come dire indicarci questo suo oscillare fra disperazione e speranza insomma in quel gioco multiplo della verità che è proprio del pirandellismo di natura siciliano vi saluto e vi lascio con l'ultima lettura di christian l'indomani nel pomeriggio laurana prese la corriera per montalmo c'era in quel paese un suo compagno d'università che più volte l'aveva invitato a quel viaggio per certi scavi da cui erano venuti in luce recentemente interessantissime cose della sicilia antica era un bel paese aperto armonioso con strade dritte che irraggiavano da una piazza integralmente barocca in un palazzo della piazza stava il suo amico un grande palazzo tanto oscuro dentro quanto fuori era luminoso per la pietra di compatta arenaria in cui sembrava il sole si fosse rappreso ma il suo amico non era in casa era andato appunto agli scavi di cui era ispettore onorario la vecchia cameriera glielo disse dalla porta appena spiragliata con evidente premura di chiudergliela in faccia ma dalla casa come da una profonda prospettiva di porte aperte venne una voce che imperiosamente chiedeva chi è sempre tenendo la porta semi aperta la cameriera verso l'interno gridò niente uno che cerca il professore e fallo entrare ordinò la voce ma cerca il professore e il professore non c'è replicò la cameriera fallo entrare ti dico gesù gemette la cameriera quasi stette per verificarsi un disastro e aprì la porta facendo entrare la urana giusto da una prospettiva di porte aperte avanzava un uomo anziano curvo un plet vivace sulle spalle lei cerca mio fratello sì sono un suo vecchio amico un compagno di università mi ha invitato più volte a venire qui per vedere gli scavi il nuovo museo e oggi si accomodi venga non tarderà molto a tornare si voltò a fargli strada e appena si voltò la cameriera fece a la urana un segno di avvertimento un movimento con la destra all'altezza della fronte come di spirale l'inequivocabile significato del gesto fermò la urana ma senza che si fosse voltato e senza voltarsi l'uomo disse concetta la sta avvertendo che sono pazzo meravigliato ma al tempo stesso rinfrancato la urana lo seguì al fondo della prospettiva in uno studio pieno di libri di statue di anfore l'uomo andò a sedersi dietro a una scrivania e gli fece cenno che si sedesse di fronte a lui dall'altra parte della scrivania rimosse una piccola barricata di libri e disse concetta mi considera pazzo e non solo lei per la verità la urana fece un vago gesto di incredulità di protesta il guaio è che per certe cose lo sono davvero non so se mio fratello le ha parlato qualche volta di me almeno per il fatto che quando faceva l'università io a quanto lui dice i soldi glieli lesinavo io sono benito il fratello maggiore il nome naturalmente non mi viene da quel tale a cui lei sta pensando eravamo quasi coetanei dopo l'unità c'è stato nella mia famiglia un innesto di sentimenti repubblicani rivoluzionari e io mi chiamo benito perché un mio zio morto nell'anno in cui sono nato era nato a sua volta nell'anno in cui benito juarez fece fucilare massimiliano un re morto ammazzato pare fosse per mio nonno ragione di incontenibile gioia questo però non gli impediva di continuare nei nomi la tradizione bonapartista che si era stabilita in famiglia dalla rivoluzione del 1820 in poi non c'è stato uno nella nostra famiglia che scampasse al secondo o terzo nome di napoleone se maschio e di letizia se femmina infatti mio fratello si chiama girolamo napoleone mia sorella letizia e io dietro benito juarez nascondo un giuseppe napoleone ma non è escluso che il giuseppe sia per così dire ambivalente tra napola tra buonaparte e mazzini quando si può è bene fare con un viaggio due servizi durante il fascismo il mio nome faceva una certa impressione uno che si chiamasse benito e che avesse la stessa età di colui che come si diceva guidava le grandi sorti della patria la gente era talmente abituata al mito che forse si faceva l'idea avessero cominciato a marciare insieme verso roma appena messo il primo dente lei è fascista no tutt'altro non si offenda ma lo siamo un po tutti davvero fece l'eura la urana divertito e irritato ma sì le faccio subito un esempio che anche esempio di una delle mie più recenti e cocenti delusioni peppino testa quadra mio vecchio amico uno che dal 27 al 43 ha passato tra carcere e confino gli anni migliori della vita uno che a dargli del fascista salterebbe su per scannarvi o per ridervi sul muso eppure lo è fascista le dice testa quadra fascista lo conosce ho sentito qualche discorso leggo i suoi articoli e naturalmente dal suo passato da quello che dice e scrive lei ritiene che a considerarlo fascista ci voglia una forte carica di malafede o di pazzia ebbene forse di pazzia sì se consideriamo la pazzia una specie di porto franco della verità ma non di malafede assolutamente è un mio amico le dico un mio vecchio amico ma non c'è niente da fare è un fascista uno che arriva a trovarsi una piccola e magari scomoda nicchia nel potere e da quella nicchia ecco che comincia a distinguere l'interesse dello stato da quello del cittadino il diritto del suo elettore da quello del suo avversario la convenienza dalla giustizia e non le pare che gli si può domandare chi gliel'ha fatto fare a soffrire galera e confino e non le pare che noi malignamente possiamo anche pensare che è partito allora sul piede sbagliato o che se mussolini l'avesse chiamato malignamente sottolineò la urana la mia malignità le dà misura della delusione della pena che peppino mi ha dato come suo elettore oltre che suo amico lei vota per il partito di testa quadra non per il partito cioè per il partito si capisce ma in subordine come tutti qui c'è chi è legato a un uomo politico da un sussidio da un coppo di spaghetti da un porto d'arme o da un passaporto e chi come me è legato dalla stima personale dal rispetto dall'amicizia e pensi al grande sacrificio per me di uscire di casa per andare a dargli il voto non esce mai di casa mai da parecchi anni a un certo punto della mia vita ho fatto dei calcoli precisi che se io esco di casa per trovare la compagnia di una persona intelligente di una persona onesta mi trovo ad affrontare in media il rischio di incontrare 12 ladri e 7 imbecilli che stanno lì pronti a comunicarmi le loro opinioni sull'umanità sul governo sull'amministrazione municipale su moravia le pare che valga la pena no effettivamente no e poi in casa ci sto benissimo e specialmente qui dentro e levando le mani a indicare ad accogliere tutti i libri intorno bella biblioteca disse laurana non è che qui non mi capiti anche qui dentro di imbattermi nei ladri e negli imbecilli parlo di scrittori ben inteso non di personaggi ma me ne libero facilmente le restituisco al libraio o le regalo al primo cretino che viene a farmi visita anche stando in casa dunque lei non riesce ad evitare del tutto i cretini non ci riesco ma qui dentro è diverso mi sento più sicuro più distante qualcosa di simile al teatro e persino mi ci diverto posso anche dirle che da qui mi pare teatro tutto quello che accade nel paese matrimoni funerali liti partenze arrivi perché so tutto sento tutto e ogni cosa mi arriva anzi moltiplicata rimbombante di echi ho conosciuto uno di montalmo interruppe laurana di cui non riesco a ricordare il nome alto la faccia grande scura porta lenti di tipo americano è una specie di grande elettore dell'onorevole abello lei è un professore sì un professore rispose laurana arrossendo sotto l'improvvisa fredda diffidenza dell'altro come se nascondesse una diversa identità e dove ha conosciuto questo tale di montalmo di cui ha dimenticato il nome per le scale del palazzo di giustizia qualche giorno addietro stava tra due carabinieri ma no era in compagnia dell'onorevole a bello di un mio conoscente un avvocato e vuole sapere da me come si chiama non è che ci tenga proprio a saperlo ma vuole o non vuole saperlo sì e perché ma così per curiosità l'uomo ecco mi ha fatto una certa impressione c'è di che disse don benito scoppiando a ridere rise fino al singulto fino alle lacrime poi si calmò si asciugò gli occhi con un gran fazzoletto rosso è pazzo pensava laurana è davvero pazzo sa di che rido disse di me rido della mia paura ho avuto paura le confesso io che mi ritengo un uomo libero in un paese che non lo è ho avuto per un momento l'antica paura di trovarmi tra il delinquente e lo sbirro ma anche se lei è veramente uno sbirro non lo sono io l'ho detto sono un professore un collega di suo fratello che glielo fa fare di andare a sbattere in ragana di nuovo scoppiò a ridere e poi spiegò domanda dettata dalla prudenza non dalla paura comunque lo ha già risposto si chiama ragana ed è un delinquente esatto uno di quei delinquenti incensurati rispettati intoccabili lei crede che sia ancora oggi intoccabile non lo so probabilmente arriveranno a toccare anche lui ma il fatto è mio caro amico che l'italia è un così felice paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che già se ne è stabilita una in lingua ho visto qualcosa di simile 40 anni fa ed è vero che un fatto nella grande e nella piccola storia se si ripete a carattere di farsa mentre nel primo verificarsi è tragedia ma io sono ugualmente inquieto ma che c'entra scattò la urana 40 anni fa le posso anche dare ragione una mafia grande ha tentato di schiacciare la piccola ma oggi via le pare che oggi sia la stessa cosa non è la stessa cosa però senta le voglio raccontare a mo' di apologo un fatto che lei certamente conosce una grande industria decide di costruire una diga a monte di una zona popolata una diecina di deputati avvalendosi dei tecnici chiedono che la diga non si faccia per il pericolo che verrebbe a incombere sulla zona sottostante il governo lascia costruire la diga più tardi quando è già costruita in funzione si leva qualche avvertimento di pericolo niente niente finché non succede quel disastro che alcuni avevano previsto risultato duemila persone morte duemila persone quante iraganà che prosperano qui ne liquidano in dieci anni e potrei raccontarle una quantità di altri apologhi che peraltro lei conosce benissimo ma è un rapporto che non regge poi francamente mi pare che i suoi apologhi diano nell'apologia lei non considera la paura il terrore crede che gli abitanti di longarone non ne avessero a guardare quella diga ma non è la stessa cosa convengo che sia stato un fatto gravissimo e resterà impunito appunto come più bei delitti nostrani come i più tipici ma insomma se questo ragana e tutti i ragana che conosciamo e che non conosciamo si riesce finalmente a toccarli nonostante la protezione di cui godono a me pare che un bel passo avanti si sarà fatto un passo importante crede davvero nelle condizioni in cui siamo quali condizioni mezzo milione di emigrati vale a dire quasi tutta la popolazione valida l'agricoltura completamente abbandonata le zolfare chiuse sul punto di chiudere anche le saline il petrolio che è tutto uno scherzo gli istituti regionali che folleggiano il governo che ci lascia cuocere nel nostro brodo stiamo affondando amico mio stiamo affondando questa specie di nave corsara che è stata la sicilia col suo bel gatto pardo che rampa a prua coi colori di guttuso nel suo gran pavese coi suoi più decorativi pezzi da 90 cui i politici hanno delegato l'onore del sacrificio coi suoi scrittori impegnati coi suoi malavoglia coi suoi percolla coi suoi loici cornuti coi suoi folli coi suoi demoni meridiani e notturni con le sue arance il suo zolfo i suoi cadaveri nella stiva affonda amico mio affonda e lei e io da folle io da folle e lei forse da impegnato con l'acqua che ci arriva alle ginocchia stiamo qui a coparci di ragana se è saltato dietro al suo onorevole o se è rimasto a bordo tra i morituri non sono d'accordo disse laurana tutto sommato nemmeno io disse don venito